Musica Bisognerà attendere il 30 settembre per vedere realizzata la fusione tra l'azienda vicentina AM e quella veronese AGSM. Infatti, in vista delle elezioni comunali scaligere previste per domenica 11 giugno, si è deciso di prolungare questo termine per vedere realizzata la tanto attesa fusione a settembre. I vicentini avranno una società ancora più potente, in grado di fare investimenti, di mantenere una grande qualità dei prodotti e le tariffe saranno ancora più contenute. Questo è quello che abbiamo davanti e dobbiamo guardarlo con grande orgoglio, anche perché in Italia non ci sono precedenti negli ultimi dieci anni di questa natura. La nuova società vedrà un consiglio di amministrazione di cinque membri, ma soprattutto tra Verona e Vicenza si dovrà decidere insieme. Non ci sarà il padrone. I padroni sono i due comuni che sono soci unici e daranno gli indirizzi. Ovviamente non saranno luoghi di spartizione di poltrone, perché le figure che verranno messe dovranno avere un curriculum manageriale di alto spessore. Perché questa, non dimentichiamo, è un'azienda orientata alla borsa, al mercato e quindi di grande capacità industriale e di efficienza. I lavoratori saranno completamente assicurati anche nella vicinanza del loro luogo di lavoro, quindi non ci saranno valigie da preparare, ma potranno contare dell'essere dipendenti di una grande azienda che avrà capacità di sviluppo nei prossimi anni. Ovviamente con grande rispetto, lo dico, verso Verona, perché dopo domani i veronesi sceglieranno il nuovo sindaco, la nuova amministrazione, e quindi è giusto che sia il nuovo sindaco, la nuova amministrazione che diano un'occhiata a questo dossier, che però è completato, chiuso e rigido. Entro il 30 di settembre i due consigli comunali dovranno dire di sì o di no. E io conto che diranno di sì, perché non vedo le ragioni per dire di no ad una società che nasce per sviluppare, per crescere, per dare energie e finalmente qui, nel territorio Veneto, una volta tanto nel territorio Veneto, riprendendo quella forza che avevamo e che un po' negli ultimi anni avevamo perduto.